Metal 2000, infissi in legno, alluminio, infissi in taglio termico, infissi in PVC e persiane in alluminio e in acciaio zingato verniciato, basta gamma di colori, preventivi gratuiti. Se n'è andata anche l'ultima partita di calcio programmata a Cava nel periodo delle universiadi. Per il settore maschile, ieri pomeriggio, il Sudafrica si è classificato undicesimo nella finalina con l'Argentina, vincendo ai rigori dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sul 2-2. Due splendidi gol da parte dei sudafricani, segnati con due tiri a giro dalla media distanza, mentre gli argentini hanno sbagliato di più e hanno raggiunto il pari a 5 minuti dalla fine con un pizzico di fortuna, prima dei rigori che poi si sono rivelati a loro sfavorevoli. L'ultimo incontro di calcio che sarà ospitato dallo stadio Simonetta Lamberti sarà quello di domani pomeriggio, con inizio alle ore 17, tra Francia e Ucraina, sempre nel settore maschile, finale per il settimo e l'ottavo posto. Ieri sera a Salerno l'Italia è stata eliminata dal Giappone ai rigori nella semifinale dopo i 3-3 dei tempi regolamentari. Quindi con questo risultato gli asiatici contenderanno al Brasile la medaglia d'oro proprio allo stadio Arekki, sabato sera. Gli azzurrini di Arrigoni si giocheranno il bronzo con la Russia. Nel settore femminile invece c'è da dire che l'Italia oggi aveva in programma la finalina per il settimo e ottavo posto con il Canada. Altre soddisfazioni per l'Italia dall'Atletica. Ieri ai 100 metri a ostacoli ha vinto la medaglia d'oro luminosa Bogliolo. E inoltre nel salto con l'asta l'oro è stato conquistato da Roberta Bruni. Spero sia un trampolino di lancio per il futuro, ha detto Bruni ai microfoni della FISU. Stasera è inoltre in finale la squadra italiana femminile di pallavolo contro la Russia si giocherà a Eboli.